Buonasera, parliamo della parola to backfire, della parola, del verbo to backfire, to backfire, to backfire, to backfire, to backfire. Quando qualcosa backfire vuol dire che ti si ritorce contro, vuol dire che ha un effetto opposto a quello che ti eri immaginato. The plan is too risky, this could backfire. Ok, il piano è troppo rischioso, questa cosa potrebbe ritorcerci, ci si contro. The president tactics could backfire, ok? Le tattiche del presidente potrebbero backfire, potrebbero avere un effetto opposto a quello che si era immaginato. Non so i tempi verbali in italiano se li ho fatti tutti giusti, comunque ci siamo capiti. Perché si parla di fire, backfire? Perché si riferisce al ritorno di fiamma che si aveva nelle automobili, soprattutto quelle vecchie, ma anche quelle nuove molto performanti, hanno un backfire, hanno un ritorno di fiamma. Capito? 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 Grazie.